Buonasera, sono Marco Brivio, amministratore delegato di Scania Finance Italy. Scania, Scania Finance in Ecomondo. È sicuramente un momento importante della nostra storia e del nostro lavoro. Tanta tecnologia qui in Ecomondo, tanta tecnologia che nasce da ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo che sono la base della tecnologia che poi viene applicata nei nostri prodotti e che viene poi portata a terra presso i nostri clienti. I nostri clienti che con questa tecnologia riescono a soddisfare non solo le loro esigenze produttive ed economiche, ma anche le esigenze della loro committenza, dei loro clienti. Ed è qui il valore aggiunto di Scania Finance Italy, quello di capire non solo le esigenze di un mercato, non solo le esigenze tecnologiche di un prodotto, non solo le esigenze di un cliente, ma anche di una committenza. Quando si parla di economia circolare, si parla quindi dell'insieme di più attori che nel loro insieme portano un valore aggiunto, un valore economico all'attività dell'autotrasporto. L'attività dell'autotrasporto che è basata fortemente sulla tecnologia e noi come Scania Finance Italy, captive di Scania, abbiamo l'obbligo e la disciplina di dover applicare questa conoscenza, questa tecnologia ai nostri clienti. Avere clienti che sono soddisfatti dell'investimento che fanno è importantissimo. Avere clienti che sono soddisfatti di come l'investimento viene ripagato nel tempo fa la differenza. Abbiamo un'esperienza importante, abbiamo 13.000 clienti, abbiamo 13.000 contratti, abbiamo 12.000 polizzi di assicurazione, abbiamo 6.000 polizzi di assicurazione casco, quindi vuol dire che siamo in grado di seguire il nostro business, i nostri clienti, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista assicurativo e del rischio. Questa è la nostra missione, questo è il nostro lavoro. iscriviti al nostro canale.